signori speriamo che sia femmina fin dell'86 molto bello è morbido come film veramente non saprei come altro descrive veramente è scivolato via che ha una bellezza senza azione senza cose speso pochissimo film veramente veramente bello consigliatissimo e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like 8.4 ciao ciao